Il Russiagate e le indagini sui presunti contatti tra Mosca e la Casa Bianca potrebbero essere presto vicine ad una svolta. NBC News lunedì ha diffuso la notizia che il procuratore Mueller sarebbe entrato in contatto con il legale di Trump per ascoltare il presidente e decidere le modalità dell'incontro. Chiaramente il team Mueller vuole un'intervista di persona, vogliono essere presenti, vogliono anche toccare dei tasti cruciali della questione. E' il presidente degli Stati Uniti, se si rifiuta di testimoniare, significa che è colpevole. Un pezzo in più del puzzle, un cerchio che si stringe intorno al presidente, altra figura chiave a finire nella rete delle indagini, Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza nazionale, che all'inizio di dicembre aveva dichiarato di aver mentito all'FBI riguardo ai contatti con i russi. Non avrebbe infatti detto la verità sull'incontro con Sergei Kislyak, l'ex ambasciatore russo negli Stati Uniti. Trump sarebbe indagato per istruzione alla giustizia, per aver chiesto all'ex direttore dell'FBI, Comey, di insabbiare l'inchiesta sui contatti con Mosca durante la campagna presidenziale.